Proseguiamo questo giro di incontri con amici, Andrea Pennato, anche tu oggi, la prima volta qui. E' vero, grazie. Com'è andato? Che esperienza stai vivendo? Magnifica, ho anche origini di questa zona, proprio una nonna della provincia di Salerno, poi, come tu sai, vivo in Sardegna, sono leggero di cuomo, quindi... Ci fa a dirlo, andiamo tutti e tagliamo. I miei sono nati in Veneto, quindi io... Perfetto. Tutte terre di vino? Tutte terre di vino, esatto. Tutte terre di vino buono, ma come tutta l'Italia è assolutamente terra di vino buono. Tu sei qui in qualità di cliente Egg, che... A parte oggi è una giornata conviviale, però insomma, esperienza con loro... Ma esperienza, tra l'altro, per la prima volta al di fuori dal gruppo, diciamo, su un tema di software, non devo dire che l'esperienza è veramente positiva. Siamo contenti, ne ho faticato un po' anche con loro, ma abbiamo creato una bella cosa. Quindi siamo contenti. Bene, ottimo. Tra l'altro, l'intento di questa serata è creare, oltre degli ottimi rapporti di lavoro, un buon rapporto anche interpersonale con gli stessi, diciamo, ideatori, sviluppatori di Egg, ma anche tra l'altro, tra le qualità di mediazione finanziaria. Gli stessi occupatori, Egg li tiene nascostissimi, quindi oggi per la prima volta ci abbiamo parlato, abbiamo fatto mille call, ma stasera ne abbiamo visti fatti che esistono. Diamo dei volti a quelle voci. Bene, allora ti ringrazio di essere qua, un buon divertimento e buona persecuzione. Sì.